L'azienda in jazz di Erika Leonardi prende in considerazione la struttura proprio di un'azienda come se fosse un'orchestra di jazz. Il jazz è meraviglioso perché prende in esame tutti i vari componenti dell'orchestra che in alcuni momenti sono dei solisti meravigliosi che però collaborano tutti quanti insieme al raggiungimento di un'armonia e di una ritmica complessiva che poi rende meravigliosa una musica.